Ciao ragazzi, in questa video lezione parleremo della spirale deflazionistica all'interno del modello ISLM-PC, quella situazione per cui, pur partendo da una situazione in cui inizialmente l'inflazione è nulla, si crea poi una spirale che porta l'inflazione a diminuire sempre di più, quindi deflazione e a provocare a sua volta recessione, meccanismo inflazione recessione detto appunto spirale deflazionistica.